Ciao a tutti, mi piace tutto il mio canale, noi ne sto cercando il re del libro, ho già toccato un po' di circolati ma non c'ho tanto top Adesso il portiere è top, che periodo sto cercando, il re di libro, chieda che non ho però il prossimo libro, però dove c'è da forno e chieda un po' e che c'è il triato, se non c'è Vabbè, almeno l'erede di Buffon c'è, non so se l'erede di Buffon, io ho lasciato un portiere, tanto tempo è vecchio, e questo è molto vecchio Non credo che i commenti, io qui di qua che non ci sono restati, franchi da cercare, questo è Galli, questo è Cebello, ma non credo, sentirei da me, Banchetti Valentino, non credo, Saro potrebbe, ma non credo, Luciano è peggiori, non è Bucci, potrebbe, Banchetti, potrebbe Come, come 30, più giorni rivasti, vabbè, se non c'è ancora un altro, non li si, non vedo, non vedo, non vedo, non vedo Beh, si, sentiamo i giorni, poi vediamo, gli dico chi vediamo Poi, ragazzi, c'è un problema, che lui ce lo vuole andare, e io volevo andare uno che non è contro di noi, tipo all'azione, no E poi c'è caso che io 65, cioè, se accettano di andare i miei preci Oggi mi ha detto, qui di subito, però, faccio vedere quanti soldi io andiamo Sono 16 milioni, solo per farmi vedere E ancora, mi dice, come capola, c'è una squadretta, ecco Vedete, come è il portiere Il problema, secondo me, è il portiere, perché è un 72 Mi piace qualcosa di forte E qua, lui, io Lui, no Lui, no Lui, no Lui, io seguo Io seguo tutti questi Qui, se c'è qualcuno di forte, lo seguo Questo deve essere molto buono È rinistrato tutti, eh Io ti do Poi c'è questo qua, però Vabbè, poi c'è Maintain, si conosceva tante forti Poi c'è Alba che sto seguendo Poi c'è Biltraton Lui, può essere fortino Io lo seguo, che gli sceglie di difensiare Alba c'è può essere fortino E io Alba, se lo faccio, ce lo compro 12.000 Io lo compro Io lo compro Io lo compro, Alba Cazzo Io, forse ce lo faccio Ma a me, mi piace a me Ho visto quanto è Non so quanto è Poi dico, ho visto le sue tasse Ciò vede più di Silvia La butto là Vedo quanto Vedo quanto Sotto su Luca gemello con santa seno Di santa seno Ciò fe Ciò fe Ciò fe Ciò 해 C'è un complesso Come se hai titolare E non lo vedi Ciò mi ha compreso D'altro punto Ancmi Potevea che scrive Un soprano Per questo video Oltre le attuerò Perché , non lo v Fast Perché, e quanto Quattro ragoscia E' quello che ho vinto E qui, dcate a quanto, piace Con i ciò fattori Alvarez Quanto segnale? E' un 70 Se cresce può essere buono Se cresce Poi c'è Pallucca Un altro che ne va da ripresi Da 64 ragazzi Mi piace qualcuno già Quanto è? Quanto è tipo Lancia E' un 67 C'è Ragazzi Ci guarda per l'Italia E' un portiere si serve I portiere si serve Mi dispiace Non voglio continuare con Aureo C'è un altro ragazzi Poi andiamo a mettere un dove Che poi cresce credo Poi gli serve Aureola Il portiere si serve Aureola C'è Cura 67 E' un attacca di Aureo Poi c'è il portiere forte Un 83 forte Un 83 si serve E quindi lo teniamo L'angelo c'è oggi qui C'è l'oncio Deve mettere Ada C'è lui E poi vediamo Alco solo Poi vedo questi Si chiederebbe di buffo Non si cuoce il pallone Perché sono 66 Quindi Solo vendiamo Ragazzi Qui Poi io Aureo Anche Soppe ed Aguara Prima Che gli altri si fa Che il svincolato Fortino Prima Vediamo C'è Aureo Tra il pietro Aspettare Che vado tutti Quasi Poi Faccio Quello Perché Grazie Servono forti Ragazzi Servono forti Ce l'ho messo Sero forti Nel 5 giorni E tutti Giacolti Ce l'ho E anche Uno più 30 Qualcuni Più Trenta Allora Vediamo Io Devo più Accordi Per il pietro Poi Pagliuca Ma Pagliuca Non ci sono tanti La c'è L'unale Vediamo Di tutti C'è L'ottato 79 Allora Allora C'è L'ottato Pagliarsi 79 No Tanto Mettevano Pagliarsi Colti Questo Quelle Accettate Allora Non c'è Di saldi Quindi Si Diva il copio Vi Già Due C'è No No Tampoco Ma Tampoco Pagliarsi Da Me Vinci Cazzato Via 70 No Tutti Gli Altri No Ragazzi Così Quelli In Cacilazione Anche Lui Anche Lui Anche Viettili Altri Così Pagliari Lui Ah Adesso Io Questo Sto Comprando Due Dai Arias E Tostro Un Tg Che Tostro Mettiamo Soffi Che Qua Mettiamo Arias Soffi Lui 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 Che Erano Lui Lui Tg Rui Lui Cosa Rinovata Città Ho In Lui Nel Lui crescente ragazzi un 76 attenzione a che non ti vede titolare un 76 o lei più scarso per il tutto c'è di santis che vuoi sentite ora è l'ultimo vero e lui è lui e lui c'è ci sta ragazzi si sta roba il liquido ci sta anche un euro quanti mi ha 26 anni lui c'era di sotto vignatolo vignati mi dispiace non avevo 10 milioni tanti miei soldi non ho comprato nessuno ho già comprato un'altra se ho cercato un portiere bellissimo mi aspettiamo che qua e primo ce l'ho poi alba vabbè parchetti no quindi sarò no bozzi no lui no lui no lui no lui no lui no lui no questi quattro potessi serva io ovviamente ci sono altri circolati che adesso faccio questo io faccio faccio questi circolati come qualcuno di forti questo questo qua l'altro della forza lui da lui lo è lui sì io lo compro subito questo che è forte e dicevo di a quattro di forti non è più di tardi non è sicuro punta titolare lo scheracoli punta titolare via il portiere e di a quattro costi non è più di 75 te lo dico ve lo dico è più di 75 sono voi 77 e le titolari sono me e titolari va a voglia al bologna come c'erano perché voglia al bologna che non vuole più perché troppo scarcio e val bologna a fare titolare vediamo io le ho presi in franza mila non c'è quanto è non c'è quanto è quindi a casa c'è tanto c'è tanto c'è si può essere più volte per dare solo aspettiamo che cresce aspettiamo che c'è giù c'è ora c'è il mercato ora facciamo il mercato dopo che c'è ancora non gioca più sempre cresce il brame ma c'è lui qua c'è storiato è cresciuto qua c'è lui ci serve un difensore non c'è lui ci serve un'altra cosa in questo tipo si è cresciuto non ci sarebbe fosse l'inghardt se l'inghardt si dicevano come c'è cia è che ho trovato la piazza io non vorrei giocare con dei punti guarda come si contro io lo sapete quattro e tre anni quanti vuoi è cresciuto scambini non credo però io direi di sapere di sapere poi questo quest'anno se di me siamo come tutti ragazzi e di puntata 7 facciamo un acquistino che doveva vincere il campionato giovane ma non troppo ragazzi giovani ma non troppo qua gli do il difenso essenziale no lui perché lui dai che arriviamo 70 milioni ci va bene 108 ciao 75 dai più vedi 5 per 78 non vedrò mai non l'ho messo contatto dai ragazzi no no dai ragazzi però se vuole perché non è crescita cimeone dai che vuole cimeone 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 ti faccio iniziare sempre che cavolo che cavolo vuole un difensore un difensore non troppo vecchio e non troppo vecchio e quando non becco voglio troppo 80 milioni che costa che in realtà costa 5 milioni che costa che in realtà costa 5 milioni che costa 8 milioni che costa 8 milioni che costa 87 ragazzi dai eh ecco ci vuole un altro crescere e mi metto una rinocola un piccolo del campionato gratis siamo al 10 ma ogni sicurezza c'era quello se lui che mi frega se lui che non mi frega se lui che non mi frega e c'è il folle di forte tratta hanno accettato 80 milioni buono va via 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 8 milioni con questo giocattolino qua in difensore 76 87 poi c'è un cc poi c'è un mignaccio attenzione a un mignaccio una punta non posso giocare con un guerrero cioè voglio vedere il campionato una di queste cc punta io lo metto e non importa se ne cresce però se ne cresce non dovevo prendere uno in calli infatti 75 ah non so più ok andiamo all'accesso vediamo a giugno spero di vincerla ragazzi l'anno siamo quinti eravamo secondi poi loro perché sono stati fino alle quarti non ho dovuto andare tutte le partite proprio che l'ho giocato e prima voi li faccio chi ha giocato poi il secondo chi non ha giocato jaguara perché ha giocato guerrero perché perché avevo fatto i miei chiedi li mi hanno fermato eravamo secondi e ho detto sto giocando quello sta giocando sia guara o meglio da guara chi sta giocando fuori vigniato stavo giocando lui lo stava giocando perché si era soppi lì puoi vedere alcun altro anno io che stavo giocando adesso poi gli faccio sta più giocando e allora stavo giocando ciò che il 75 si era andato non avevo la pena che comprare fino a che è cresciuto no della sua squadra avevi prima qua tipo lui c'è tanto ancora vedere qua chi è cresciuto qui la che sto vedendo è un 72 less less 72 non avevo neanche le s quindi vabbè ci vediamo il prossimo anno adesso c'è qualcosa di forte di zucchero un donate tipo far vincere tutto io ci sono un difensore un td poi aspetta aspetta adesso io poi vediamo un giocatore forte vediamo una polizia più in più tante migliori se questo è qualche fortino io so ho quel 1 lo destruirò ok però qua forse credi sì ma quello si sa ne guarda se ci vincolati se sei un parchiere io ho più di 83 sono 83 84 più 85 6 non c'è più video e online questo è il quarto anno ragazzi a capo vediamo allen dai poi c'è uno per i secondi 80 poi basta se qui in attacco ho visto uno che c'è il più scarso mi sembra che se giovi giovanissimo il più scarso guardano se tant'altro poi si più scarso mi sa che teate no buoni faccia è da cambiare buoni faccia un'altra infezione no forte come quello dell'altra volta soffra garella questo va a questo ciao uno può vedere c'è anche l'altro ti aiuterò cosa troppo qui ci scrive dai su ci può prendere 287 la indifesa periodo mi farò sapere dai all'acqua vediamo intanto buoni facci che non vorrà mai fare i secondi e non voglio neanche che faccio con il che è bravo buoni facci 60 migliori dai su tanto buoni faccio 60 migliori se ne faccio quando buoni faccio io faccio lui c'è qualche soldi 65 poi vedo che è cresciuto qua 70 70 migliori faccio per screen prima di merce poi screen poi tirate con l'ora 2 madonna intanto a squadra la sera via circolato prima la gioca con le sue ditorale con quei due diversi titolari ok 100 mila dai poi davvero in più d'ostro prese il top il top come vedete con 74 74 ragazzi aspettiamo un po' per il compro 80 ragazzi migliorato la ripena perché è 80 fai con 70 e questo problema io poi io voglio rimettere che è cresciuto più domingo 70 tutti 80 tra 70 lui che ha 20 anni lui che ha 23 anni lui che ha non è più tanto giovane però non è tanto vecchio 23 anni questo è un punto che tutte e tre arrivo 80 e poi il 80 l'ha il 80 anche la squadra vedete cioè sì perché arrivo a tutti 80 insomma mi sembra 12 video qui ragazzi abbiamo vinto la conference buono campionato settimi 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 migliato la terra di questo ma quanto hai migliato 80 l'ho tenta quella arrivata però mi sa che ho cresce più è che da guarda quanto sei da guarda 81 mi sa che mi sa che non fanno una cosa alla punta eh mi arrivi che è 82 quello 81 anche lui facciamo cammelo mi chiedo qua lui può volerlo che non ha giocato mi faceva il più scarso che soppi soppi il più scarso prossimo anno voglio cambiare soppi dai ci vediamo il prossimo anno facciamo di visto che c'è dove troppo il video io compro il video sempre al giugno qui adesso si vediamo al giugno il prossimo anno noi ok grazie oggi così faccio solo vedere che ho comprato ho comprato a Kimi qua alla destra ho fatto i soppi ragazzi siamo a giugno e vediamo terci nuova donna lì mi cadi tanti punti vabbè posta che scende la squadra ragazzi allora c'è 84 qua con 83 seconde vabbè poi c'è un 82 che si deve cambiare si deve cambiare un 82 so io 64 vabbè poi c'è Barone 92 25 76 e Kimi 89 Icchia 87 Teatro 84 Rimane 79 screen 88 Aeola 86 il prossimo non c'è 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 piccolato forte però c'è quanti c'è dio a poche adesso poi arriveranno c'è Zaro trovo c'è 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 Cadrus che è buono Cadrus a lui se no chi se no Pellegrì vabbè no escono no fekir no vecchio gradice no vabbè ma sì se vuoi spendere un po' di meno fekir no questi sono il salberto no c'è la dog no ci ricordi ci sono più forti ricordi ci sono un ciozio oppure anche su un attitico di se togliamo attiti forte circolato a donna non credo però vediamo ma di qualcuno ciao ma sono italiani sono italiani così vediamo così sono italiani circolati ci facciamo una taglia quelli circolati vediamo portieri sane le sue le più forti portieri quindi qua c'è fra botta no proviamo quanto è ferrara dai può essere buono come secondo poi c'è pure neri peggio centocampista se fior di lino no grazie ma no niente attaccanti magari ok adesso ci vediamo prossimamente vi dico chi compro e ciao ragazzi ho fatto una camola non ridovati i contratti ero sbagliato lo so adesso le ridò quella che mi interessa quella titolari quella mi interessa posso andare via poi quella forse non c'è ancora quest'anno potrebbe la carta questo qua se non ridova adesso rinocchio hai il mio previx in passione c'è stata che sono 74 quando sta andando ah la c'era come si chiama forse in porto c'era non mi ricordo più non mi ricordo più che c'era in porto qualsiasi domingo c'è così il portiere una bella cosa non c'è qui io prendo un portiere invece ho fatto un cadena intanto domingo non è giochino vai dicolas alba il l'olico riporto un piccolo chi sarà quindi io comprei quanti salivo ci voglio davvero questo mi sono pioggiato il top 110 milioni aliceo dai dovrebbe essere vecchio eh lo so ragazzi ho fatto una cavolata una cavolata seria veramente seria portiere cento capista di dovinguez difensori no non ho teresa difensori lascio dei santis ragazzi copio questi e poi basta ragazzi lascio un difensore così quindi quindi vedi ora c'è il portale con il cioci ho visto scorto di compri apoli da 35 a 40 invece qua così aspetti si ha attaccolato il portese del capito non c'erci si sente campista allora potrei lasciare pure alberi c'è che si è tratta quattro aspetti che riesce però no si dorme forte appena è già lì in questa squadra accorto qua vabbè lui e anche lui lascio prima della fiera del terzo di alberio domingo per portare che c'è che lo ne era forse neanche però adesso la gioccolata chi è che ce lo prende dove lo attra vita c'è alice il nostro chiediamo per favore domingo sticchi ritorna qua mi sono anche accorto che scadenza facciamo il tour quale la coppa per gli altri soldi il secondo i soldi usciamo a comprare lui 190 mila quanto manca quanto manca come la scusa 190 mila ehi chica 616 116 non lo capisco sto gioco io lo riproviamo a prenderlo o lasciamo la come la che vedi cifra 5 a 4 io ho pure battito in base c'erci 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 eh lo sapevo non so perchè io ah è version vabbè abbiamo 100 milioni eh sembra 56 eh 800 milioni scusi 80 milioni abbiamo qui niente di che intanto facciamo partito di la finale spero di vincerla adesso abbiamo un po' di fortuna però guarda ce l'importa no mi sei detto io c'erci forte non ho perso niente come in tante no ma facciamo così mi facciamo compiere una forte io prendo lui per sicurezza c'erci forte mi sa che i zenni pianiz spero di sbagliarvi allora però aspetta io c'erci di cristiano c'erci di colate lui vabbè no non c'erci è scarso è scarso vabbè da c'erci di la forte non c'erci non c'erci non c'erci non c'erci da poi 40 milioni c'erci di scendiamo eh dico io che scendiamo adesso 74 anche lui poi tutti i cento campisti che trovo 85 e c'erci prendiamo sto elmas eh quindi ho da buona bocca a tutti e scopo di asco per tutti gli anni no va bene 60 milioni non basta no eh 70 milioni non basta 80 milioni 80 80 80 80 80 80 oh elmas d'ostro bene o male bene o male ragazzi bene o male trovi uno troppo questo video però e penso no io che tanto sto ponendo in camera però 5 anni quindi e la clausola 120 no eh che ho accettato fa donna un video quello duvida per voi sì 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 e sì ragazzi e se va così e se fa così la squadra dobbiamo un 86 mettiamo un 85 che cresce di più poi togliamo un 85 mettiamo un 90 e poi arrivano un 88 più bassi come ci vede a giugno però abbiamo peggiorato il difensore non so cosa è meglio e vabbè ti vediamo a giugno solo mi so questo anno ci ha un film faccio la parte 3 ragazzi siccome ci sono arrivati 3 più e 4 mi piace la coppa Italia però secondi secondo me secondi sì 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 campioni in Italia costa formazione con città non c'è indipendente secondo me non ho anche giocato tanto c'è 85 in panchina 74 76 in panchina stavo schifo però con Alice sono in porta lo sapevo che mancava solo il portiere il portiere mancava con ci ha aperto il 92 paramo il 94 anche il 91 e che è il 90 Alice un 90 ragazzi i più morti nella scuola mi dispiace va barlow 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 quanto cavolo costa quanto costa 27 milioni 92 il più giovane il più giovane non è stesso è lui il più forte giovane barlow il che 24 anni quanto costa 27 milioni ragazzi c'è meglio tutta la squadra tanto è lui e basta portare un sacco di soldi madonna agli ho vinto finalmente il campionato finalmente dopo due anni dopo sì dopo quattro anni non lo so cioè aspetta 2020-22 22-23 22-23 22-24 22-25 22-26 22-26 22-26 22-27 2 aspetta 22-23 22-23 23-24 25-26 25-26 26-27 aspetta 22-23 23-25 24-25 25-26 26 dopo sei anni avevo tutta squadra ragazzi se volete nei prossimi mi sa che il non cade forse anche le monete che non cade io la forse anche tre parti dopo nemmo mangiare fino a che ci vediamo nel prossimo video ciao